E si diceva Andrea Buongiovanni, viato della Gazzetta, che nonostante i due errori, un bel riconoscimento da parte della giuria internazionale ma soprattutto un bel riconoscimento per Paolo Bacchini che va a coronare un sogno, quello di andare appunto a Vancouver, cosa che mi sembra ormai certa e anche giusta. Sì, credo che la qualificazione ormai, la convocazione sia ormai praticamente scontata, è giusto che vada lui perché ha dimostrato un livello superiore a Zelenka nel corso dell'intera stagione, resta un po' di rammarico secondo me al di là appunto del piazzamento che sarà stasera per i due errori che ha commesso nel programma corto. Ecco, spero che superato l'impasse psicologico di debuttare in un europeo così importante, nel libero domani possa far vedere veramente qual è il suo attuale valore che è superiore a quello che abbiamo visto oggi. E intanto uno splendido triplo axel di Bresina all'inizio, triplo lutz, ottimo dai passi, manca la combinazione. Triplo flip e triplo tolup. Quest'anno è un Bresina esplosivo, le potenzialità si vedevano già in passato ma quest'anno è molto sicuro, molto determinato. Continua on the Ritz, la musica di Bresina. Ricordiamo che Bresina ha ottenuto 11 punti nella tappa in Giappone nella Grand Prix, 9 in Canada ed è rimasto fuori dalla finale di Tokyo per appena due punti, preceduto da Thomas Werner che aveva ottenuto 13 punti in Francia e 7 negli Stati Uniti. Thomas Werner che è il suo compagno di squadra, di nazione ma anche i campionati nazionali è riuscito a far meglio di Thomas Werner, quindi c'è una grande battaglia in casa Cecchia. Cecchia. Bel flying seat. Filo esterno, variation, seconda variation. Folista. defence. Grazie. Insk cerca. bella la sequenza di passi circolare trotto la combinata presina un personale di 71 e 92 proprio tenuto a skate canada il 20 novembre scorso che vedremo anche in un americano a parigi di george gershwin nel libero volano per lui degli omaggi dagli spalti per questo giovanissimo di vent'anni li compirà subito dopo il mondiale di torino il 30 marzo sarà un bellissimo appuntamento non solo non solo tallin non solo l'olimpiade di vancouver franca ma anche il mondiale di torino e si ritorna al palavela laddove davvero i grandissimi campioni si vederò battaglia sfida in occasione dei giochi olimpici del 2006 sembra ieri invece già un ricordo quasi del passato possiamo dire un olimpiade di mezzo ma torneranno tanti campioni protagonisti di quell'olimpiade soprattutto in campo maschile io sono molto affezionata a michael presina un po perché lo vediamo sempre allenarsi a oberzo fin estate dove molto spesso ci trasferiamo anche noi mezza italia si trasferisce più e poi l'aneddoto di questa musica è che questa musica era la musica che aveva victoria manni l'anno scorso lui la sentì al gardena trofi e mi venne a chiedere se per favore potevo dargliela perché mi piaceva molto quindi vederla pattinata adesso così è veramente piacevole vittoria manni che è una delle promesse del pattinaggio azzurro ma la fa meglio e di vittoria manni è un pochino meglio sì per ora che salto in più e qualche salto in più è un bravissimo ragazzo migliore presina poi si fa veramente amare naturalmente l'idolo di tutte queste ragazzine che frequentano la pista via oberzo lo so perché è un gran bel ragazzo bisogna dire ha migliorato le sue trottole che erano un po il punto dolente sempre un po la velocità che potrebbe essere ancora incrementata però in quanto a salti nulla da dire pulito perfetto direi dopo plushenko è assolutamente intoccabile questa è senz'altro la migliore performance che abbiamo visto fino adesso e quindi andrà a battere anche stefan lindemann il tedesco che ha ottenuto 70 e 19 presina che ha un personale di 71 92 lo vediamo proprio con carol pfeiffer uno staff composto anche da pietro star anche il suo papà il suo papà stesso che lo allena mostra con orgoglio lo stemma della repubblica cieca allora 79 60 è il suo personale 79 60 è il personale ed è il secondo posto per presina classifica dunque che va aggiornata con paolo bacchini in ottava posizione zelenca in quindicesima